Siamo carichi, allora benvenuti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti insieme a Cicciobox e a questo è il mio primo video. Io oggi vorrei fare un vlog su come passo la vita, però mi dispiace che le mie sorelle dormono e la tutta la famiglia. Dai, scegliamoci. Oggi abbiamo pure una spia speciale, vero Vittorio? Bello ragazzi, non ci sei proprio visto? Beh, no, stai. Allora, sono Cicciobox e io farò un video su GTA V e Pokémon GO. FIFA 17, il viaggio di Antea e su GTA V se l'avevo detto. Alleluia, alleluia. Baccia, baccia, bravo. Io ho due sorelle, tutte e due cattive, che di sicuro saranno degli ospiti speciali nelle prossime puntate. Una si chiama Selvaggia. La piccola è una selvaggia. E una si chiama Penelope. La Mizzano. Cioè quella è la seconda. È una strada. È una strada, giusto. E noi e Paolo ci parleremo di ciò che faremo. Come ho già detto, avremo noi tanti ospiti. Cioè lui è un ospite, lui non ci sarà ogni puntata e ogni video. E giovedì avremo una sorpresa, vero? Qua io. Se lo sai che te l'ho detto non lo devi dire. Capito? Eh, non so di vedere il video che è io. Ah, ok. Scusa. Cioè, posso accennarvi che giovedì faremo un video su GTA V. Eh, se forse te l'ho detto, zitto. Se l'hai detto! Sì, se te l'ho detto a te. Beh, intanto accendiamo la Playstation perché ve lo anticipo che appena finiremo questo vlog e dopo faremo il primo video su FIFA 17, ossia il viaggio di Hunter. Meraviglioso, ve lo consiglio. Oggi due video. Domani vi anticipo che domani faremo un video di Clash Royale. e domenica se raggiungiamo i 5 like... E aspetta, e poi sta qui! E poi sta ancora! Perché l'hai detto? No, ma lo devo fare. Eh, io ho... Eh, ho sempre sognato di entrare in YouTube Italia. Mi piacciono molto i video. I miei video sono Stephanie, Gamer, Anima, cioè tutti i mates. E Giochi, Arigno. E Mike, Shosham. I due miliardi crew. E tanti altri. E... Possiamo... Questo vlog non so se è troppo corto, però... Ma vediamo di passare nelle altre camere di sopra perché sotto... Su padre. Dammano tutti. Su padre e basta. Poi c'è mia sorella che sta a ballo, l'altra, grande. Andiamo. Che cosa è più pazzesco? Questa qui è la camera delle mie sorelle. Non è vero. Questa qua è la camera di Ciccio Bob. Non è vero. Speriamo che vi piaccia la camera delle mie sorelle. Poi andiamo a vedere il bagno. Non è vero. Andiamo a vedere il bagno invece. Speriamo che non ci sia qualcosa di sgradevole. Vediamo. Beh, non c'è niente. Vediamo. Vediamo la figurina. E mi vedo io allo specchio. Ciao mondo. Andiamo. Quelle che sono belle. Le cingi a luce. Che carino. Non è vero. Io ce l'ho provato invece. Ora possiamo dare le altre camere. Anche qui il mio cavallino invece. Che cazzo vuoto. Con cui Nico ha fatto incidente. Non è vero. Beh, e questo è quello che erano i miei genitori. Guardate, le pigiama di mio padre. Molto tattico. Mentre vediamo quelle di mio padre. Guardate. No? C'è una mucca. E qui non mi dico da mucca, no? È vero. Qui vediamo io da piccolo. Guardatemi. Che sono carino. Davvero. Grazie. Qui vediamo il nostro padre Pio. E vediamo le nostre torni. C'è caduta. Beh. Possiamo tornare in camera mia. Beh, accendiamo la pe stessa un'intanto da dopo. Guardate così assente. Che figata, no? Per il prossimo video. Chiudi la porta. No. Sì. Sì. Se ne puoi vedere via. Beh, intanto la pe stessa non si è accesa. Ve li possiamo vedere. Guardate. Ehm. Ehm. E poi possiamo cambiare paglietta. Andiamo. Allora se conto eri da Juve. Però di due anni fa. Quando la Juve arriva il finale di Centro. Bella, bella. Lo so. Grazie. Ehm. Qua vediamo le giacche. Grimpiola di scuola. Ehm. Qua abbiamo il telefono di Vittorio. Qua vediamo. E la coppa. E le medaglie vinte. Grazie a Giro Menir. E. Grazie a Giro Menir. E alle mie corride. Grazie. Grazie. Lo so che mi ammirate tutti. Grazie. Grazie. Quindi è qua. Anche la mia vita che è arrivato ultimo. Quando gli altri avevano già finito. Ma perché? Lo dici sempre. Dai. Vabbè. Qua abbiamo GTA 5. Di quali faremo una serie. Poi. FIFA di cui faremo una serie. Qua abbiamo una FIFA di sette. Qui faremo una serie. Sul viaggio di Hunter. Poi. Qua abbiamo Call of Duty. Di cui faremo solo un episodio. No. Perché non lo faremo proprio. Perché il box si casa sotto. Lo so. Perché non mettono l'usualità zombie. Grazie. Dai. Basta. Vabbè. Dai. Basta. Per favore. Ehm. Mi sono dimenticato di dire una cosa. Io. Noi faremo anche il video. Sapete su che cosa? Su Happy Wugits. No no no. Vuoi copiare Fabi J? No no. Lo stavo appena a dire. Non voglio copiare Fabi J ma io questo gioco. L'ho mai provato. Anzi una volta ci ho provato a giocare mi sono ammazzato. Io. Lo so. Bene. Voglio condividere questi momenti di tristezza per me con voi. Ehm. Tra pochissimo monteremo il video di Fia 17 e ricomincieremo da cavo il viaggio di Hunter. Capito? Ehm. Ehm. Qua possiamo vedere. Le appendi. Le appendiabili. E' vero. Poi apprezziamo pure l'armadio. I corriti. Guardate. Questo è bello. Io quando ero piccolo li ammiravo. Eh. Questo è so. C'è box. E qua ci andiamo dentro. Qua ci sono i miei guanti da portiera. Sempre il nostro diventino. Ehi grazie grazie. Lì ce ne è che sarebbe fare lì due anni fa con dentro. Però dentro c'erano dei giochi. C'è quel gioco. Di Bentenna. Bormigi. Grazie. Bentenna. E di Draco. Bormigi. Dragon Ball. Grazie grazie. Guarda. E qui. Vediamo. Ah mi sono dimenticato. Ecco la vostra macchina. Andiamo alla nostra Ferrari. Adolamente. Ah. E poi qui possiamo vedere un regalo che mi ha fatto il mio ospito. Due anni fa al compleanno mio. Guardate. Guardate la lampola. Che bella no? Poi. No. Mi ricordo. Mi ha venuto regalata a una sale o a compleanno? E poi. Io mi avevo regalato. Perché mi deve. Quella lì mi avevi regalato quando eri andato a Torino. E va bene. E poi qua possiamo vedere il calendario di non mi ricordo neanche quanti anni fa. Tipo se ce l'ho buona. Quindi ho due o tre anni fa. Abbiamo il calendario ancora appeso. Perché abbiamo ancora le firme di Leobolucci e Tevez. Tutti loro qua. E solo per la sfidata del telefono. E come possiamo vedere. Oh. Yeah. Tu. Cacuta. Maria. Teresa. Di Cacuta. E. Penso che il nostro vlog si potrebbe condividere. E. Finire. Qui proprio gli lanciano una sfida. Se. E lo giuro. 5 like. Lo giuro. Se raggiungiamo i 5 like. Domenica farò 4 video. Mentre. Se raggiungiamo 10 like. Domenica 10 video. Non è vero. No. Se raggiungiamo i 10 like. Appena è possibile. Sopro. Un. Baule. Leggendario. Su. Crash. Royale. E. Vi altisco un'altra cosa. Due di noi faremo. Un video. Sull'apertura del nostro caro bug del clan. Che. L'ultima volta che l'ho aperto. Mi ha portato grandi sorprese. Ossia. La leggendaria. Il dragon fernale. Beh. Speriamo appena che questa volta. Salutiamo. La nostra cara Teresa di Calcutta. Alleluia. Alleluia. E. Beh. Ci salutiamo qua. Intanto. Incominciamo a montare il video. Il prossimo video. Intanto. Noi. Adesso. Lo montiamo su YouTube. E. Alla prossima ragazzi. Cioè. Dopo. Friamo con Fima di Asette. In Viaggio di Hunter. Con il solito ospite. Torni. Che. Incredibile. Proprio lui. Beh. Alla prossima.